Domani pomeriggio al Campo Mariotti, l'Alghero affronterà la Colligiana nella gara d'andata della semifinale dei play-off di Serie D. La partita è a sé sentita, non solo perché potrebbe avvicinare la formazione algherese alla C2, ma anche perché sarà l'ultima gara interna stagionale. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 16. Mauro Giorico potrà finalmente schierare Tarantino e Piredda, a rientra dopo la squalifica, mentre non sarà ancora disponibile il fantasista Antonio Papa per squalifica e Mattiello che si è infortunato in settimana.